C'è i scelti dal mondo, ognuno di noi seguiva la propria via, eravamo come pecore ranti, senza appunto una guida, senza un pastore che si prendesse cura di noi, ma tu signora hai visto la nostra vita in pericolo, signore in questo mondo, che signore si presenta a noi come tanti lupi rapaci, ora in Dele Messia, alleluia, gloria al tuo nome, ha avuto pietà di noi, alleluia, ci hai liberati da tanti mali e pericoli e ci hai condotti nel tuo ovile santo, ed ora siamo qui per renderti lode, onore e gloria e ringraziamento sia a te Padre che a Gesù, alleluia, che per mezzo di Lui stai compiendo tutto nella nostra vita, mi fai che te ne possiamo essere sempre grati e riconoscenti, esprimendoti sentimenti veri, sinceri, leali, onesti, lucido dalla pazia, alleluia, gloria al tuo nome, signore anche se non ci sappiamo esprimere con parole, signore nel nostro piccolo cuore, signore si sa esprimere davanti alla tua presenza, come questa sera, ogni in cuore è un libro aperto davanti a te, oh signore, dove tu solo puoi leggere, dove tu solo puoi commentare, dove tu solo, signore, appunto puoi, signore, giudicare, gloria al tuo nome, ed allora accetta l'offerta del nostro cuore, delle nostre labbra e ti siano come suave profumo insieme a Gesù che con te lo benediciamo, ora e sempre, in eterno, alleluia, amén, amén, amén. Siamo felici nel suo regno, di giustizia e di libertà. Vieni e pace, vieni e salvezza, che ogni gloria sta nel suo nome, con la gioia, da in più la vita, ammio e gloria, preve Gesù. Vieni e pace, mi dice al nostro cuore, ammio e gloria, comune e gloria, che ogni gloria Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è l'onore oppure la gloria o quello che il mondo offre, no, questo è il bene e questo è l'onore, che chi crede in Cristo vivrà. Fratelli, quanto pagherebbero le persone in questo mondo che hanno problemi di salute? Quanto pagherebbero? Guardate, mi è venuta alla mente un particolare bellino, no? Dice perché? Ecco, chi soldi? Allora, sapete, da quando c'è la radio e la chiesa, come il Signore mi ha fatto dire che ora sono 40 anni che c'è la radio e 30 anni mi ha fatto che c'è la chiesa. E' vero? Alleluia. E allora, in questi 40 anni di radio, sapete quante miracole ha fatto il Signore con la radio? E anche con la chiesa ha fatto il Signore con la chiesa, ha fatto miracoli. Ecco, i soldi, io una volta li ho voluti contare, e sapete manca farlo apposta? Allora, l'ho contata sette famiglie, sette famiglie che non potevano avere figli, ne ho contate sette famiglie, che sono venuti da me piangendo, esponendomi il loro problema, che non potevano avere figli. Preghiamo, chi è venuto all'unzione, che diciamo ancora c'era la radio e ho fatto la preghiera per via radio, tutte e sette famiglie hanno avuto i figli e mi hanno detto tutte e sette che avevano girato i migli professori di Messina e d'Italia. E ve lo dico come è vero che l'Eterno vive, non me le sto inventando queste cose. E poi parlano male del fratello De Luca, parlate pure, parlavano male di Gesù, poi è il fratello De Luca a confronto di Gesù. Senti, un pulviscolo, alleluia. Ma è sempre lui, Gesù che opera, alleluia. Ve lo dico in verità, le ho contate sette famiglie. Non è giù una, perché una sola famiglia, una sola persona. Potrebbe essere, ma una coincidenza, ma sette famiglie figlioli, sette coppie, no? Sette famiglie, sette coppie, no? Il corpo De Luca, non è gloria a Dio. E mi ricordo che di tutte queste, ecco, come i dei celebrosi, dice, ma tutte le ho sono nuove, una sola, una sola, una sola, una sola. A me gloria a Dio, a me, no? Persino quelle, quelle lì, diciamo, quelle coppie, si sono scandalizzate quando un signor figlio esplodere a Bumma. Prima e la seconda a Bumma. Quando un signor vede i figli per mezzo a tuo fratello De Luca, a Bumma non la vede. E vedete, gloria all'altissimo, alleluia, una che mi è rimasta, diciamo, impressa è stata quando, ripeto, sono state sempre tutte belle, no? Mi ricordo che una sorella di un'altra comunità è venuta piangendo. E ai battesimi, quando facevamo i battesimi a San Filippo, ricordate? Ricordate San Filippo? Allora. Aspetta, la sorella viene piangendo. Fratello De Luca, perché, pure mi conosceva, perché, fratello De Luca, prega per mia figlia. Ecco, che succede? Questo che c'è? Sai, non può venire più in te. Hanno girato tutta la talia. Ha avuto un po' i figli. Ebbene, sorella, non ti preoccupare, preghiamo. Falla bene la chiesa, ci facciamo l'unzione. Ci sentiamo, ti lo prego. Ma sono sette, dove c'è? E allora, è venuta, in chiesa ci è venuta, le ho fatto l'unzione e ascoltava la radio. Ma non è che io ho detto, bene, in ta chiesa, in modo tale che diventa una proselita di Luca. Perché l'unzione non io ce la poteva fare, non tu pensi a strada, no? E quindi, però ascoltava la radio. Dice, sai, perché mi hai detto questo? Perché sai? Dice, noi ascoltiamo la radio. Questi avevano coraggio di trasferire ai loro anziani, no? Fai cammincione, se non si è una radio. C'è stato uno, c'è stato uno, c'è stato uno, il signore che benedica questi elementi, no? C'è stata una persona, non vuol dire se è stato mascolo o femmina, no? Ha scritto su internet, ha risolto, fratello, io sono uno dei clienti che scolta la radio e non mi scanti nulla. È vero? Dice, io non mi scanti nulla. E non me l'ascolto lo stesso. Dice, io me l'ascolto lo stesso. Vedete, con un suo scanto, con un suo vergogno. Dice, io me l'ascolto lo stesso. Alleluia. E allora, quindi, ascoltava la radio. Allora, fratello, e telefonava. Dopo un paio di giorni, sta sorella non telefonava, cioè. Dice, sta sorella. Dice, hai, se vedi con il signore figlio non ce ne dessi. Che è, quindi, a questo che sta, non solo non finna, perché? Perché in chiesa è venuta esclusivamente per, diciamo, per l'unzione. Perché a me non interessa fare proselitismo. Anzi, mi dà fastidio, in verità, davanti al signore. Mi dà fastidio. Perché il signore deve mandare i propri piedi, i sopravvoli. e dopo un paio di giorni, telefono. Io so, telefonavo. Ma non manco. Fratello, scusa, sai, non ho potuto telefonare. Dice, sai, non ho. Dici, perché ho dovuto fare degli accertamenti, no? E siccome, ripeto, per bocca sua e desomaggio, che girarono pure i prossori in Italia. E dice, sai, ho fatto degli accertamenti. Dice, quindi non ho potuto telefonare apposta. Dice, però, dice, devo dirti che sono stato interessante. Tantino, io, due gemelli. Con tanti accurenti. Mi sono un allegrato. Però, figliole, sapete che... Allora, a quanto pare, diciamo, altri... Perché, sapete, ci sono gli redditi che non si potrebbero fare i fatti soliti. Insomma, diciamo, anche questa sorella, con il suo compagno, scomparerò i vestiti, i vestiti, i vestiti, i vestiti. E così come tanti altri. Gloria a Dio. Ora, ecco, i soldi, dice. I soldi. Seguono fino a un certo punto. I soldi, vedete, dovremmo noi trattarli come se fossero un vestito. Ora, se noi trattassimo i soldi come vestiti, i vestiti, diciamo, ne sappiamo. E sono giustamente utili, per carità, bisogna, perché non eravamo in gira nuda. Quindi, gli vestiti ci vogliono. Non trattare i soldi con morbosità come per accumulare. E poi, per esempio, anche se... A me? 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 Sì. A me? A me? A me? A me? A me? A me? Grazie a tutti. E' importante. E allora, e qui sta, vedete, ora pare che uno mette sempre il dito nella piaga, dice, e fratello, le metteremo forza. E sol chi, allora, sostituiamo sol chi ha visto, allora diciamo sol chi ha realizzato, o chi realizza di Gesù, può dire come egli è. E se può dire come egli è, allora, soprattutto a livello di pastori, insegnerà, amè, alla Chiesa, quello che Gesù gradisce, quello che Gesù approva. E quello che Gesù non gradisce e non approva. Ci siamo, alleluia. Perché, vedete, e io direi, non io, ma il Signore mi fa dire questo. Ad alcuni che magari hanno questo desiderio di fare i pastori. Una cosa buona, ecco, avere un desiderio di fare i pastori, non è che, dici, è un desiderio male, brutto. Però, se uno ha il desiderio di fare i pastori, chi aspetta che sia il Signore a farlo tale? Cioè, non precedere il compito che aspetta soltanto al Signore, di dare. Perché, vedete, fare il pastore è un dono, è uno dei tanti doni e ministeri che lo Spirito Santo, che il Signore, in mezzo dello Spirito Santo, dà. Non è che con uno si può improvvisare pastori. Come io non mi posso improvvisare un guaratore, uno che ha il dono di guarigione. Io posso fare la mia parte quello che il Signore mi ha dato, cioè la predicazione. Perché lo Spirito Santo mi dà da predicare. Poi, se c'è la necessità di guarire, amè, gloria a Dio, oppure di interpretare le lingue, per carità. Però, vedete, sono tutte opere, doni dello Spirito Santo. Allora, io ripeto, nell'amore del Signore, perché, vedete, di questi ce ne sono tanti. Fratelli, che avete il desiderio di fare i pastori, cercate di aspettare che il Signore vi dia questo dono. Perché non è né di chi vuole né di chi corre. Amè? E fare il pastore, cioè l'anziano, perché pastore vuol dire curarsi delle pecore. Perché il pastore che fa? Se vuole una sigaretta. Il pastore porta al pascolo il grece. Amè? E se il pastore ama le pecore, allora li conduce sempre per verdegganti pascoli. E a peserene tranquilli. Come dice il Santo. E allora, perché, se vedete, perché di questi tali ce ne sono parecchi. Anche a Messina. Abbandonatemi. Ma cosa vuole bene? Dice, ti faccio andare. Cosa vuole male, ti faccio ridere. E non vuole che ti batti le mani, ti faccio dire questo libro del bravo, 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 bravo. Non sei il pastore. Se vedi, se senti, è rovina l'opera di Dio. Perché a maestri male, le pecorelle del Signore. Ci siamo. E allora, perché, ripeto, solo chi ha visto Gesù può anche dire come egli è. Quindi solo chi ha realizzato la presenza di Gesù può dire come egli è quello che lui vuole. Le cose che lui gradisce, le cose che lui non gradisce. Guardate che è una grandissima responsabilità. Ora facciamo come ad un fratello che è nota, che ha detto a un anziano. Dice, fratello, quello che non lo faccia raro, il suo pupo dice, però io mi sento ria di praticare, di avere un uomo. Insomma, ti sento ria. Perché cacchio c'è, si sente, uno si sente, uno si sente, uno si sente, uno si sente. Una cosa. Alleluia. A me. Fratello, io non ho detto mai. Nella chiesa dove frequentavo, io mi sento ria di praticare. Anzi, mi mani un ibampo dopo. La faccia. A me, gloria a Dio. Quindi, attenzione. Perché fare, cioè essere pastore, vero pastore, il vero pastore è raro. Sono rari i veri pastori. Ma, grazie a Dio, quei rari pastori possono dire chi è Gesù. Perché lo realizzano. E allora ammaestreranno il gregge nella maniera gradita da Gesù. Alleluia. Fratello, è inutile che noi, oggi, nel 2000, insomma, si fanno le cose per attirare gente, per portarsi in te chiesi e prendono tutta la maniera che c'è in giro e a secco in te chiesi. E poi, perché ci prendono ballare, cantare, danzare, battere le mani, mangiare. No? Chi è questo schifo? So chi ha visto Gesù, chi ha realizzato Gesù. Certo, se tutti quelli non hanno realizzato mai Gesù nella loro vita, che cosa possono fare? Alleluia. A me, vedete, quindi gloria all'altissimo. Ora, giustamente, so chi ha visto Gesù, può anche dire come egli è. E cammina con lui ed onora verità. Ed onora la verità. Fratelli, io dico sempre, signora, ti prego. Non mi fare sbagliare. Fratelli, quando io mi sveglio la mattina, signora, ti prego, non mi fare sbagliare. Non fare sbagliare né me, né la mia famiglia. La famiglia, non mi fare sbagliare né a me, né alla mia famiglia, materiale e speratuale. Io prego pure tutta la chiesa, ve lo dico e vedo come è vero che l'eterno vive. Signore, non ne fare sbagliare a noi. Pensate che io prego per me, per la mia famiglia, perché chiaramente dobbiamo essere di luce e buona testimonianza, tanto nella famiglia fisica, materiale e spirituale. Ci siamo? Alleluia. Amén. Allora. Niente, detto questo, vogliamo anche questa sera. Vedete, per esempio, il fatto che io, nel timore di Dio, perché allora il Signore me l'ha detto, che io non mi devo preparare le predicazioni, io, fratelli, se vi ricordate, io non mi preparavo neanche gli studi biblici che facevamo, perché gli studi biblici che il Signore per un certo periodo che ci ha fatto fare, che sono state delle cose meravigliose, eh, fratelli erano tutte fatte sul momento, era il Signore che ci dava, lui c'è sempre ammaestrato, ma perché, fratelli, perché sono stato sempre timorato di Dio, perché il Signore allora me l'ha detto, tu, dice, non ti preparerai niente, dirai solo quello che io ti dico, senza nulla togliere e nulla aggiungere. Amén. Quindi, fratelli, inutili, vedete che si vantano magari, che si preparano a casa i sermoni, loro possono, se si prepararono, eh, loro, se si prepararono, eh, loro, se si prepararono, non è che si possono preparare i sermoni, se possono preparare un salmone. A me, o al supermercato di un salmone che venne da Svezia, non è che venne da Svezia, ma per no. Allora, eh, però, eh, fratelli, eh, credenti di tutto il mondo, eh, non è che l'hai, chi ne deve essere peccarata, eh, ma ognuno che se ne sia al proprio posto, ma lascia spazio ai veri pastori, quelli che hanno visto Gesù, che realizzano Gesù. Dici, ma io l'hai realizzato in te la mia vita, quando io prego, realizza, sì, ma magari tu lo realizzi, fai la preghiera, non puoi fare il pastore. Amén. Quindi uno deve realizzare quello che il Signore dà. Se dà da pastore, fai il pastore. Se dà del fratello che farà sulla preghiera, ha detto, perché c'è, anche quello è un dono, è un dono della preghiera, delle cose, non è un fratello che sa essere solo pastore. No, ognuno riceve il proprio compito in modo tale che la Chiesa sia completa di tutti e di tutto. Amén. Allora, vogliamo leggere, così come il Signore ha stabilito anche questa sera, nell'Apocalisse capitolo 5. Poi vede nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli, e vede un angelo potente che proclamava a gran voce chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli, ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sottoterra, poteva aprire il libro e guardarlo. Io piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro, e neppure di guardarlo. Allora, uno degli anziani mi disse, non piangere, ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli. Poi vede il ritto in mezzo al trono e ai quattro esseri viventi e in mezzo agli anziani un agnello come ucciso, il quale aveva sette corne e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un nuovo cantico dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia, che dicevano a grande voce degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Udì ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra, e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in essi, che diceva a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. Ed i quattro esseri viventi ricevono Amen, ed i ventiquattro anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Ah, nella mia Bibbia qui allora l'avevo, vedete, corretto. E c'era, vedete, visione del trono, capitolo 4 dell'Avogadice, no? C'è scritto visione del trono della maestà divina, i ventiquattro anziani e i quattro animali. E allora, ma sono esseri viventi. Cioè, per dire, perché, come il Signore gli ha dato da vedere, vedete, a Giovanni, gli ha dato da vedere le cose a livello spirituale. Cioè, che ogni creatura, ogni essere vivente, che poi inizierà a vivere, avendo dei compiti, dei ruoli, vedete, in cielo, allora posseggono quelle caratteristiche come se che visivamente con gli occhi materiali non si vedono, ma visivamente con gli occhi dello spirito si vedrebbero, si vedono. E mi spiego. Praticamente, guardate, come dice qui, guardate, io piangevo forte perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli. Allora dice poi vidi ritto in mezzo al trono fin dalla presenza proprio vicino all'Eterno, in mezzo al trono dove c'era seduto l'Eterno, alleluia, e ai quattro esseri viventi, ecco, vedete, quattro esseri viventi e in mezzo agli anziani un agnello come ucciso. Vedete, un agnello come ucciso. Lui non ha visto Gesù diciamo crocifisso, ma un agnello come ucciso. Perché? Perché Gesù ha assolto questo ruolo di agnello. Come ha detto Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quindi Giovanni Apostolo ora l'ha visto come agnello. ci siamo perché ciò che lui ha dovuto fare è stato come quello che si faceva anticamente mediante l'agnello. Amen? Per offrirle al Signore il sangue dell'agnello quando celebravano la Pasqua non vi ricordate? Ecco, quindi il sangue. Allora lui lo vide come ucciso, un agnello come ucciso, ma lui era Gesù. Ci siamo? Rite in mezzo al trono e ai quattro esseri viventi in mezzo agli anziani un agnello come ucciso il quale aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Fratelli, non è che lui ha visto un mostro. Lui ha visto quest'agnello perché? Ripeto, per fargli capire a Giovanni il ruolo di Gesù è quello che Gesù possedeva pure. Cioè, ecco, in lui in quest'agnello e lui l'ha fatto il Signore gliel'ha fatto vedere simbolicamente. Vedi, in quest'agnello tu lo stai vedendo che come è ucciso perché lui è stato quindi crocifisso e tu lo vedi ora come se avesse sette corna e sette occhi. Ci siamo? Quindi non è che davvero lui era in quella maniera ma il Dio gli faceva vedere a Giovanni quell'agnello come se avesse sette corna e sette occhi. Non ci potete spiegare. Amen? Allora, io ti faccio vedere che il mio figliolo Gesù è quell'agnello che è stato immolato con il suo... quindi te lo sto facendo vedere come ucciso perché come ucciso perché ora lui non era più ucciso morto io fui morto ma sono vivente per i secoli dei secoli lo ricordate? Vedete quindi la visione ecco quello che il Signore mi ha fatto dire chi ha visto Gesù gli può dire come egli è fratelli se lo Spirito Santo non illumina avevamo voglia di cantare e allora quindi il Signore gli ha fatto vedere Gesù come un agnello vedete come un agnello ucciso come però che ha sette corna e sette occhi non c'è peggio madre quindi madre un animale una cosa terribile no per fargli capire a Giovanni che quel Gesù che è stato ucciso come un agnello ha la pienezza della potenza di Dio sette corna perché i corni sono simbolo di potenza quindi essendo vedendo lui avendo visto lui quest'agnello con sette corna ciò significa che c'è in lui la pienezza della potenza di Dio del Padre amene e sette occhi eh che sono dicisette spiriti di Dio mandati per cioè l'onniveggenza la pienezza dell'onniveggenza di Gesù che ha che possiede quindi soltanto lui si poteva accostare al Padre per prendere il libro e scioglierne i sette sigilli amene ora che lui ha questi poteri questa pienezza eh e sia glorificato è Dio che eh lui ora Gesù ha qualcosa in più di che importantissima indispensabile che possegga il corpo umano cosa che non hanno gli angeli serafini e carubini Gesù ha un corpo spirituale e pure materiale fisico fisico ci siamo è completo in tutto la pienezza ecco vedete in Gesù c'è la pienezza di tutto quindi i sette occhi dice che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra cioè la penezza dello spirito santo che per mezzo di Gesù il Padre manda sulla terra ai credenti alleluia amen cioè quando noi eh siamo stati e altri che vengono suggellati con lo spirito santo e ricevono dei doni o ministeri che siano ci siamo ecco i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra perché e se ce ne accorgiamo questi lui ora vede questi sette occhi che l'agnello come ucciso possiede dopo che è stato ucciso perché prima non lo potevano nessuno di noi poteva ricevere lo spirito santo ecco per esempio come certuni per giustificarsi siccome non credono come ai tempi di Gesù c'erano quelli che non credevano nella risurrezione e ci dissero che una donna aveva avuto sette mariti e allora dice alla fine vedete che sarà il marito e allora ora quelli che vedete non credono nel suggello dello spirito santo che cosa è? ah si dice ora lo spirito santo scende nell'uomo così se tu parli così su di te non può scendere e non può entrare lo spirito santo perché tu già non ammettendo questo che Gesù ha detto ha fatto la promessa tu già il tuo corpo il tuo essere è inquinato quindi tu non lo potrai mai ricevere perché lo spirito santo non entra in un corpo inquinato lo spirito santo entra dice si ma chi tu era un disgraziato va bene disgraziato però disgraziato lavato e purificato col sangue di Gesù Cristo quando uno viene lavato e purificato col sangue di Gesù Cristo lo spirito santo trova libertà di entrare come quando vedete questo avviene anche quando voi venite all'unzione o sia qui oppure in altre chiese dove ci sono i veri pastori io parlo sempre di altre chiese riferendomi a nessuno per i chiesi e per i pastori no perché ci sono pure mercatini che vengono cose pause sapete mi ricordo che ero io a Torino scusate questa parentesi per dire quello che può succedere a Torino allora io sapete ero ragazzo avevo forse non lo so forse 19 anni non mi ricordo ma orologio non ne avevo avuto mai allora tanti anni fa vai praticamente l'orogio non è che ce l'avevano non ce l'avevano era raro che avevano un orologio allora arrivo non ricordo dove sono andato lì a Torino sono uscito e c'era uno che aveva tanti ralloggi in te mani si avvicina e mi fa senti un orologio guarda te lo passo non mi ricordo è un prezzo buono accessibile ci disse no non mi interessa che fare un orologio però siccome già incominciavo lì dovevo andare al lavoro allora giustamente ora credino di me faccio un tuo negozio delle orologie delle cose io sto che avevo tutti i orologi come ci sono queste in giro però funzionano che ci sono oggi funzionano che in una volta non funzionava allora questo mi fa dice guarda che bello allora era bello sapete di forma o colore pareva placato d'oro però era bello mi piaceva un modello o cosa allora mi vede questo orologio tutto contento la forma era bellissima no la forma era bella cosa che faccio e allora questo orologio tutto contento no mi dice cosa così e mi ho messo su pallorario giusto no e mi pare che erano i 10 no allora io mi ho messo avuto no state seguendo me lo sono messo al polso guarda quanto vuoi raccontare la mia vita la mia vita errante allora a me tutto contento che avevo un orologio no la mia vita allora arrivo che allora mi aveva ospitato una mia zia un mio zio no il suo ora mi faccio a vedere no questo orologio prima di prendere l'ascensore intendo cosa mi dai e mi va e mi dice ora ci faccio a vedere e mi dice che tu vuoi fare i risi io voglio per ingiugare e sa che fico che succede io fico così e se l'accetto andavano mi fatti suoi andavano mi fatti suoi queste lancette poi io cercavo giusta va un e dice che vuoi fai quindi chiedi mi aveva mi aveva dato un orologio tutto smontato dentro non funzionava niente e si vanno per dire pure i soldi amén ora la stessa cosa fratelli può succedere con la fede che uno vanta una chiesa e catta prodotti che non funzionano amén allora gloria a Dio quindi si deve stare attenti in ogni cosa soprattutto perché quello lì diciamo per dire i soldi non mi imbroglieranno più perché quando mi cattano l'orologio mi diamo catto il tuo negozio giusto così se non funziona io vai e mi faccio giustare mi faccio canciare amén gloria a Dio quindi attenzione non chiunque si presenta e vuole venire delle dottrine delle cose attenzione gloria all'altissimo perché sono cose molto delicate che non bisogna diciamo accettare e prendere con molta facilità perché torno a ripetere lo spirito santo come dono vedete viene dato dal signore a chi lui sceglie e perché sceglie quelle persone amén non è che tutti anche se scelti dal signore hanno tutti lo stesso compito lo stesso ruolo ognuno e uno deve quindi vivere nell'umiltà e mettere al servizio degli altri amén gloria a Dio quello che il signore ha donato e la stessa cosa guardate che so se uno va se si è in compagnia e si vuole comprare una cosa non è che uno deve collaborare ognuno mette la propria parte per comprare quella determinata cosa che serve è giusto così è nel campo di doni se uno mette insieme per formare la chiesa il corpo di Cristo ci siamo e allora quindi Giovanni vedete vide questo questo agnello ripeto come ucciso perché soltanto lui poteva ora accostarsi e grazie al sacrificio che lui aveva e attenzione che quando lui si accostò diciamo all'eterno al padre e già il padre perché quel giorno come mi ha fatto dire qualche altra volta c'è stata una festa in cielo alleluia perché Gesù ha ricevuto l'investitura del regno quando lui diceva che era come un padrone che si doveva assentare per ricevere l'investitura di un regno e poi ritornare e allora vedete lui avendo quindi compiuto il sacrificio presentato dal padre allora il padre vedete ora gli ha dato pieni poteri di ogni cosa quindi pienezza di potenza pienezza di onniveggenza di tutto e grazie al suo sacrificio perché era stato quindi crocifisso immolato allora tutti i credenti credendo in Gesù che cosa noi abbiamo ricevuto perché noi abbiamo creduto nel sacrificio di Cristo che lui è morto non per gli altri sia per gli altri e soprattutto per noi noi ogni credente deve quindi credere in Gesù che Gesù è morto è risuscitato per se stesso amen una volta questo allora che cosa fa interviene il sacrificio di Cristo che lava e purifica da ogni impeccato ci siamo allora lavando e purificando da ogni impeccato lo Spirito Santo entra amen in azione e dà il dono o i doni ci siamo allora perché è sempre lo Spirito Santo che opera i sette spiriti di Dio mandate per tutta la terra allora come ho portato stavo quindi portando l'esempio dell'unzione quando diciamo l'unzione dice attenzione allora perché quando voi venite all'unzione sia in questa chiesa oppure quelle di altre chiese scelte da Dio e anziani scelte da Dio che fanno l'unzione fratelli perché fanno l'unzione perché in quel momento chi si accosta chi va all'unzione eh e va con vero pentimento con vero amore vera fede nel Signore che cosa fa se ha commesso dei peccati gli saranno cancellati allora venendo cancellati i peccati entra in azione lo Spirito Santo di guarigione e guarisce se c'è bisogno di liberazione libera ci siamo ecco fratelli dice bella fantasia che hai fratello no non è mia fantasia e allora perché tanto è vero guardate che l'apostolo San Giacomo che cosa dice c'è qualcuno di voi infermo chiami gli anziani attenzione quando dici chiami gli anziani non è che c'hanno di essere 50 anziani per dire uno l'anziano perché gli anziani perché le anziani non è che sono sotto in una chiesa quindi si riferisce all'anziano a colui che ha ricevuto dal Signore questo ruolo questo compito perché per esempio quando io vi ho portato l'esempio di quei bambini di Gimella che cosa è perché lì c'è stato vedete l'intervento dello Spirito Santo a me non è che sono stato io questo non meto comunque allora perché dice così l'anziano ungerà con olio e si ha commesso dei peccati gli saranno rimessi perdonati ci siamo perché altrimenti in poche parole una liberazione una guarigione non può avvenire se prima in un credente non viene eliminato il peccato che possiede o che ha boccantare ma ragazzi no perché lì non c'è non entra in azione la come si dice la tradizione l'abitudine ci siamo lì entra in azione lo Spirito Santo deve entrare in azione lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ecco gli do ragione a quelli che diranno ah si lo Spirito Santo ora viene in interna persona aspetta se quella persona e quel credente ha creduto in Gesù nel sacrificio di Cristo e ha chiesto perdona allora viene perdonato da tutti i peccati e lo Spirito Santo entra poi se noi ci comportiamo male allora lo Spirito Santo certamente si allontana perché lo Spirito Santo non può rimanere in una persona che commette peccati ci siamo alleluia perché perché tante volte per esempio si viene pure all'unzione e non si riceve quello che si cerca perché magari uno sa di avere dei torti insomma dei peccati e magari si giustifica e viene all'unzione lo stesso e no perché chiunque viene all'unzione e sa è cosciente di possedere degli errori dei peccati non si può aspettare una liberazione non si può aspettare una guarigione perché lì non è un fratello è lo Spirito Santo che deve entrare e agire ci siamo quindi ecco quando uno come quando andavano da Giovanni Battista per farsi battezzare razza di vipere chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire fate frutti degni del ravvedimento altrimenti si dice un battese non vuole servire a niente perché altrimenti lui davano con l'acqua attenzione quindi che i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra operano intervengono dove trovano il terreno fertile il terreno pulito a me lo botto su piccolissimi esempi a livello umano per far per far capire per rendere la cosa più comprensibile anche ai più piccoli mettiamo il caso che io abbia qui io trattando di 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 spirito santo che io abbia un una ramigiana di olio olio buono olio d'oliva extravergine buono e io ce l'ho qua no ma ti manca se non sono giusto no per rendere la cosa allora io ho questo contenitore di olio cioè pieno di olio bello pulito ora voi che venite qui diceva da me manca dell'olio no ora vai non fratello perché lui me lo da gratis me lo da allora voi cosa fate venite qui con una bottiglia loda o con una bottiglia pulita 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 se io quando voi venite qui e mi dice fratello vado io buttai la bottiglia perché tu c'è l'olio che è bello dici che è olio buono di olio e ho visto la bottiglia che è loda dico sorella io un tasso la bottiglia te la metto perché l'olio è pulito la bottiglia è loda non te la metto fratello la bottiglia è loda io vado olio te la metto vai lava la bottiglia pulisci poi bene e io ti metto l'olio ci siamo così è la guarigione così è quando si viene all'olio voi venite che la bottiglia la bottiglia è la vostra persona se pulite se voi la lavate la puliziate io no io un signore venga e mette l'olio allora mi dice nonozzo metteci l'olio se la bottiglia è loda io mi dice il signore non lo so vedete che la bottiglia è loda non ce ne mette e uno se ne va se ne rotta un posto eh come un cane bastoniato dice ci siamo vedete con Dio non si può scherzare con Dio non si può scherzare Dio è spirito purissimo quindi se noi dobbiamo stare in comunione col signore ci dobbiamo diciamo ma voi è purissimo così intanto se noi ci sforziamo ecco vi poto continuo con l'esempio allora da bottiglia guardate guardate che l'hai con i sorelli guardate fratello eh ho detto ma qualcuno ti vuoi sapere fratello fratello vedi che la bottiglia lo dice sai fratello che aveva stamattina calavo cacciacqua anzi aveva una settimana cacciacqua intanto questo cosa non se ne va come fare buono sorello ti prego fratello ti pulizio allora io prendo la vostra bottiglia e la pulisco perché ho delle detergente adatto amén la pulisco ve la rendo pulita e vi metto l'oggio perché ho visto che voi avete messo tutto il vostro impegno non ci siete riusciti allora io vengo e vi aiuto vengo incontro e vi aiuto e poi coluzio così è il signore con noi figlio ledge non uzzo ti ha spuzzato si è disgraziato dicono che in giro che sei disgraziato in un certo senso mi ha ragione l'anno ma io vedo che tu ti sforzi lascia la cantare lasciamo la cantare a tutti quanti sono amén gloria a Dio quindi perché il signore guarda i nostri sforzi e quindi quello che fuori possono dire di noi può essere anche vero però c'è una cosa loro non possono giudicare perché arrivato a un certo punto loro non sanno se io mi sto sforzando e non ci riesco allora il signore che cosa fa dice sì è vero che lui o lei ha però io vedo che si sforza che ricardentemente di mettersi sempre in regola con me quindi io non guardo perché intervengo io fratelli dove noi non arriviamo arriva lui interviene lui ecco questa è la chiave del regno dei cieli non è che noi ci dobbiamo scoraggiare se non riusciamo il signore mi sforzo ma non ce ne riesco fratello se tu ti sforzi sorella se tu ti sforzi però deve essere uno sforzo vero non che tu mi imbrogli e vuoi imbrogliare pure il signore dice io mi sforzo e non è vero perché se tu ti sforzi se noi ci sforziamo il signore se ne accorge allora lui interviene eh e ci purifica grazie al suo prezioso sangue altrimenti lo dammo pure il sangue di Gesù con il sacrificio di Cristo ci siamo alle glorie all'altissimo ecco quindi questo vedete quello che il signore questa sera ci sta eh se non ce l'aveva spiegato altre volte ce lo sta ricordando comunque per me è come se fosse nuovo perché effettivamente questa è la è la realtà è stata sempre la realtà del passato e noi vedete dobbiamo vivere i nostri giorni con questa visione con questa conoscenza amén gloria a Dio alleluia quindi poi in mezzo eh in mezzo al trono e quattro esseri viventi e in mezzo e quattro anziani e l'agnello ucciso un agnello come ucciso il quale aveva sette corne e sette occhi che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta vedete mandati per tutta la terra a cui ci mannava se quelli che dicono che lo spirito santo oggi il signore allora a cui ci manna all'animale li manda eh eh diciamo questi sette spiriti di Dio mandati per tutta le li manda a tutti quei credenti che si aggiungono giorno dopo giorno amene perché vedete finché c'è vita su questa terra ci saranno sempre nuovi credenti e questi nuovi credenti riceveranno questi sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra e le porte dell'arca ancora sono aperte gloria a Dio amene chi vuol ricevere ecco allora vedete quello che il signore mi ha fatto dire all'inizio attenzione quelli che vogliono pretecare che chiedono al signore e che non salgano sui pulpiti e che non litigano tra di loro perché fratelli non è da parte di Dio quando in una chiesa litigano acqua avanti a nato su popupito oppure qua a fare un pastore quello è diabolico quello è carnale carnalità quello è carnale diabolico alleluia amene e noi ci dobbiamo sempre accontentare di quello che il signore ha dato ognuno che noi dobbiamo scopare la chiesa amene gloria a Dio scopare la chiesa perché chi è un desonore scopare la chiesa vedete che fare la la pulizia in chiesa è uno degli alti onori che si possano ricevere uno dei più alti onori tenere pulita la casa di Dio dove il signore parla dal pubbolo amene gloria a Dio quindi vedete e qui io mi fermerei sapete perché perché ebbene che ci ricordiamo queste cose che sono semplici però indispensabili per una sana vita e da vivere e di essere di luce di testimonianza gloria al signore Gesù e e vedete quello che pensavo magari questo non so perché se non lo dicessi è come se sentissi che manca qualcosa e allora questi siete spiriti mandati per tutta la terra non sono solo per predicare non sono solo per parlare in lingue non sono solo per interpretare le lingue questi doni eh mandati per tutta la terra servono pure eh come ministeri e compiti di amministrazione delle cose apparenti materiali ma sono spirituali vedete io avevo paura di toccare questo tasto e volevo chiudere però è come se io avessi tagliato a metà il discorso vedete fratello con uno a temore di Dio poi il signore invece mi ha fatto capire dice no continua perché cosa perché questi sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra non sono solo per occuparsi delle cose eh religiose perché quello che mi ha colpito nella lettura è stato questo alleluia e gli venne prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono e quando ebbe preso il libro i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumo che sono le preghiere dei santi guardate come questi sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra entrano in azione in vari campi amè cioè quelli che Dio sono addetti pure alle preghiere alleluia e perché vedete in cielo non è che tutti gli angeli sono come questi quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani ognuno di loro ha dei ruoli hanno ogni gruppo hanno ruoli diversi però sempre al servizio di Dio ci siamo tutti guidati dallo stesso spirito santo e allora guardate qui quando ebbe preso il libro i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi dei profumi che sono le preghiere dei santi quindi loro questi ventiquattro anziani eh hanno come delle coppe amè sono ripeto sempre delle visioni a livello spirituale per far capire quello che avviene il ruolo che hanno ci siamo alleluia e allora per voi dire è come se questi avessero delle coppe non è che hanno avuto le coppe è come se avessero delle coppe dentro le quali ci sono le preghiere dei santi le preghiere nostre qui sulla terra quindi loro gli offrono queste queste coppe amen gloria al Dio e cantavano un nuovo cantico dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato ucciso e colto sangue e ci hai comprati a Dio da ogni tribù lingua popolo e nazione quindi guardate il sacrificio di Cristo quindi dell'agnello eh ci ha comprati da ogni tribù lingua nazione e lingua quindi nessun essere vivente della terra si può sentire escluso ci siamo gloria a Dio guardate quindi il valore del sacrificio di Cristo perché sei stato ucciso e colto sangue e ci hai comprati a Dio da ogni tribù lingua popolo e nazione e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra questi sette spiriti mandati per tutta la terra non se limitano soltanto alle lingue alle guarigioni alla fede anche a un ruolo importantissimo che fa parte del piano di Dio e del regno di Dio perché dopo il sacrificio di Cristo guardate grazie a Dio alleluia che dopo il sacrificio di Cristo che ora Giovanni vede come l'agnello come ucciso amén questi sette spiriti mandati per tutta la terra che cosa fanno intervengono operano in altri elementi per farli sacerdoti e re per farli sacerdoti e re quindi il sacerdozio amén che poi sarà no sarà lo è anche oggi è un sacerdozio diverso da quello che si faceva nel vecchio testamento il sacerdozio levitico ora il sacerdozio che si fa è diverso perché il Signore ci ha comprati da ogni tribù lingua popolo e nazione e ci ha fatti sacerdoti e re ciò vuol dire che il Signore in ogni popolo nazione e tribù avrà in quei posti dei sacerdoti e dei re cioè quelli che si occuperanno della parte spirituale e quelli che si occuperanno della parte amministrativa materiale ci siamo però che fa parte del regno di Dio che non può essere escluso perché altrimenti vedete il Signore non ci avrebbe comprati da ogni popolo tribù e lingua per farci sacerdoti e re ci siamo io vedete questa parte la volevo la volevo sottrarre la volevo non vorrei che una testa invece no sarebbe rimasta incompleta perché ecco l'opera dello Spirito Santo non si ferma soltanto lì venere pregare parare in lingua oppure no ma oltre il tempo di Dio è completo deve essere completo ma per essere completo bisogna che il tutto sia guidato dallo stesso Spirito di Dio da quei sette Spiriti che procedono da quell'agnello come ucciso Cristo Gesù il Figlio di Dio ci siamo alleluia gloria all'altissimo quindi vedete e queste cose vedete il Signore ci si sta insegnando in quest'ultima fratelli ma si vede che questo è il tempo non possiamo dire rimproverare i nostri fratelli i nostri anziani che sono stati prima di noi perché non hanno trattato questi argomenti si vede che il tempo è questo e il Signore lo sta facendo in ogni cosa ed è per questo che noi lo vogliamo lodare onorare ringraziare benedire e pregare pure quindi per tutte le autorità perché sono istituite e costituite da Dio amene e Dio ci benedica grazie Padre Santissimo perché veramente Signore ci hai fatti entrare in una nuova era e Signore la stiamo vedendo con i nostri stessi occhi e la stiamo udendo con i nostri stessi orecchi gloria al tuo nome perché tutte le cose che tu stai compiendo sono veramente di una nuova era alleluia gloria al tuo nome perché ci stiamo avvicinando veramente Signore al millennio e il tuo popolo deve essere ben preparato alleluia quindi ammaestrato Signore nella maniera corretta non da persone Signore che mirano soltanto ad essere qualcuno qualcosa ma Signore guidati da cuori semplici guidati dallo Spirito tuo Santo alleluia per il bene veramente del prossimo e per la realizzazione del futuro regno qui in terra per poi continuarlo lassù nel cielo quindi questa sera Signore ci hai parlato che la pienezza dello Spirito di Cristo alleluia gloria al tuo nome è stato mandato ed è quindi sulla terra gloria al tuo nome che fai che possa continuare a raggiungere le nostre vite le nostre case le nostre famiglie Signore e che ecco entri adesso in azione anche in quelli che devono governare per essere sacerdoti e re gloria al tuo nome sì Signore perché nel passato ci siamo fermati Signore soltanto nella parte spirituale come ritenendo cosa giusta esclusivamente quella però Signore sta anche scritto che ne hai fatto di noi Signore grazie alla potenza di quei sette corni Signore e quei sette occhi Signore ne hai fatto la potenza per ammaestrare i popoli e formare in questo mondo dei sacerdoti e re per il futuro regno Signore del millennio per poi continuarlo lassù nel cielo per tutta l'eternità per essere appunto Signore degli strumenti usati da Te Signore non nella politica comune come quella che gli uomini fanno ma nella vera politica nella vera amministrazione alleluia guidata dallo Spirito Santo per un popolo per un governo saggio alleluia gloria e l'autonome guidato Te poiché Tu Signore hai costituito Signore e quindi tutti i membri Signore che amministrino la terra Signore che opera delle Tue mani Signore Tu hai creato la terra con tanto amore hai creato l'uomo e lo hai messo Signore Signore al centro della terra per governarla gloria al Tuo nome con la Tua divina sapienza cosa che l'uomo non ha saputo fare ma che Tu vuoi fare in questi ultimi tempi quindi Padre io presentiamo a Te tutte le autorità presenti Signore quelle future che si veda veramente l'opera dello Spirito Santo mentre noi continueremo Signore ad appoggiarli con la nostra preghiera Signore e con i sentimenti del nostro cuore per la Tua gloria Padre e per la gloria di Gesù che è benedetto in eterno Amen Alleluia Amen Amen Dio Siamo Amen Siamo Siamo Siamo